Buonasera a tutti, grazie a Marzia dell'introduzione e non è vero che non ha nessun merito ovviamente, ma non si tratta di uno scambio reciproco di convenevoli, anzi in realtà per riallacciarmi a quanto è stato appena adesso detto da Siana, una delle alunne delle studentesse che stasera sarebbe dovuta essere presente, ma siccome non abbiamo l'ubiquità, anche se i musicisti ci sono vicini, sta presenziando quindi al collegamento con l'UST per presentazione di questo progetto, però è fra gli studenti che stasera, a cui chiedo di accendere la telecamera, e quindi a Davide, Tomasoni, a Gabriele, Faustini, Eccoli e Alessandro Zanotti, Davide Bardi e Siana sono collegati invece appunto con l'UST e sono alcuni fra gli studenti che abbiamo selezionato, tra i tanti impegnati a diverso titolo in varie attività e appunto per riallacciarmi a quanto stava dicendo Siana, il tema è anche la collaborazione, cioè la condivisione delle competenze che via via nel percorso, in questo caso liceale, si vanno acquisendo e dove gli studenti scoprono a volte di avere interessi e potenzialità molto molto più vasti di quelli con cui sono partiti e questo è poi l'obiettivo per cui poi è interessante condividere, ma io non vorrei rubare troppo tempo a loro perché saranno loro stasera che un po' in continuità con quanto è stato presentato da me e dai colleghi nei precedenti webinar sulla didattica tra virgolette innovativa soprattutto con le tecnologie musicali ma non solo, anche integrata, saranno loro stessi a presentarvi nei loro percorsi quelle che sono state alcune delle pratiche, si chiamano, le chiamiamo adesso best practice, ma insomma le cosiddette buone pratiche che credo che dalle loro parole sarà assolutamente interessante scoprire quali sono queste buone pratiche. Torno sulla collaborazione, collaborazione tra studenti, tra docenti, interagendo anche con docenti di altre aree non strettamente musicali e quindi davvero in un'ottica di condivisione perché porti a qualcosa di nuovo ma di fruttuoso, insomma anche quello che stava dicendo prima Siana partendo col dire che la musica è senz'altro come linguaggio che è vero che si chiama universale, spesso però nei risultati perché è un linguaggio che si può condividere ma per utilizzarlo e produrre questa condivisione ci sono invece delle competenze molto molto specifiche che sono quelle che i nostri ragazzi stasera vi presenteranno e quindi in davvero in ogni epoca anche nelle più difficili ha portato un proprio contributo su orizzonti anche più ampi e mi piace pensare che anche in questo periodo di estrema difficoltà per noi tutti comunque con la musica qualcosa di buono, anzi di molto buono, siamo riusciti a tirar fuori sia con questo progetto persone che stanno presentando questa serie ragazzi e che è comunque stato registrato da Siana e Davide se non dovessero riuscire a connettersi più tardi ma anche in altre cose che adesso direttamente i ragazzi di cui i ragazzi vi parleranno quindi lascio a loro la parola e mi silenzio, lasciamo pure iniziare loro, grazie a voi Innanzitutto buonasera, buonasera a tutti e grazie per la presenza voglio iniziare questa presentazione parlando delle tre materie principali che caratterizzano il liceo musicale che infatti sono definite materie di indirizzo che sono teorie, analisi e composizione che viene abbreviato in TAC esecuzione e interpretazione che consiste nello studio della tecnica strumentale e tecnologie musicali che viene abbreviato in TM e queste materie sono ovviamente molto collegate tra loro infatti spesso le competenze sono trasversali tra di esse le lezioni di strumento, come viene abbreviato esecuzione e interpretazione consistono principalmente in lezioni individuali dove ci si concentra sullo studio e sul perfezionamento delle prassi esecutive strumentali andando a studiare e interpretare brani del repertorio ma anche studi sia di grandi compositori che di grandi didatti del passato e facendo ciò si cerca di applicare le competenze ottenute nelle altre due materie appunto TAC e TEM infatti in TAC si cerca appunto di procedere nello studio delle regole e della composizione musicale infatti nel biennio, ovvero i primi due anni si parte da una comprensione epibasilare partendo dal solfeggio, ovvero la lettura ritmica delle note musicali la trascrizione delle note musicali dopo un solo ascolto che viene chiamato il dettato melodico e anche un'introduzione all'analisi e trascrizione della partitura mentre invece nel triennio viene introdotto lo studio dell'armonia tonale che è la tecnica compositiva che caratterizza tutta la musica che conosciamo fino adesso compresa anche la musica più popolare possiamo dire e applicando tutto questo dal punto di vista pratico all'interno delle composizioni e cercando anche di ricreare questi stili attraverso la composizione di brani da parte dei singoli studenti inoltre viene introdotto anche uno studio più approfondito dell'analisi di brani di repertorio anche in tecnologie musicali si avviene un'analisi affine a quella svolta in TAC solamente che in questa materia ci si concentra principalmente sulle opere composte nella seconda metà del novecento partendo anche da citazioni di opere della prima metà del novecento perché tutto questo? perché nella seconda metà del novecento vengono introdotte nelle composizioni di nuove tecnologie che andranno a svilupparsi in quel periodo quindi si parte utilizzando vinili e registratori a nastro e anche grossi macchinari che svolgevano i compiti che svolgono i computer attualmente per poi arrivare ai primi programmi software fino a giungere ai computer come li conosciamo noi adesso anche in questa materia si cerca di comporre brani in stile a quelli studiati nel repertorio inoltre gli studenti possono valorizzare le loro competenze attraverso dei progetti che escono dalle mura scolastiche come ad esempio concorsi dove molti studenti sia individualmente o in gruppo partecipano a concorsi molto interessante è l'esempio dell'orchestra di fatti della scuola che ha partecipato a due concorsi a livello internazionale proprio una casa e un premio prima del covid-19 mentre invece anche la tecnologia musicale offre la possibilità di poter dimostrare le competenze attraverso dei progetti che ai nostri compagni esporranno più tardi ricollegandomi quindi a ciò che diceva prima Gabriele per introdurre le nostre imposizioni possiamo dobbiamo parlare per forza di un'opera che abbiamo affrontato durante quest'anno scolastico il quinto anno scolastico ovvero mantra di Caroline Stokhausen quest'opera è stata realizzata nel 1970 appunto da Stokhausen ed è scritta per due pianoforti un piccolo set di percussioni e modulatore d'anello cos'è modulatore d'anello? è un apparecchio elettronico elettroacustico che permette di per dirlo in termini più semplici possibili che permette di modificare il suono e renderlo più complesso più ricercato se non dobbiamo mettermi in questi termini è un ascoltatore diciamo che mi è abituato può sembrare un suono quasi metallico questa opera è intitolata mantra perché si basa su una melodia iniziale della durata di pochi secondi che viene appunto definita dal compositore stesso mantra perché è mantra? perché viene ripetuta nella composizione numerosissime volte se non ricordo male 156 volte ma tutte le volte viene ripetuta in modo diverso come è possibile ripetere questa melodia in modo così diverso senza che essa diventi un semplice banale tema di variazioni che sicuramente non era ciò a cui contava Stockhausen è possibile in quanto Stockhausen aveva ben precisamente in mente come strutturare la composizione aveva infatti in mente di strutturare la composizione afferma lui come una serie di sistemi solari in cui i pianeti costituiscono le note cosa vuol dire ciò? vuol dire che divide il brano in diverse sezioni diverse che però ognuna la quale però le quali però sono ognuna complete e complesse al loro interno queste diverse sezioni sono determinate da da dei comportamenti che sono presenti all'interno del mantra originale con comportamenti intendo l'andamento della melodia stessa come può essere per esempio l'utilizzo di trilli o di abbellimenti quindi brevi note che precisano una nota principale oppure di articolazioni come lo staccato quindi su questo modello sono state realizzate tre delle quattro composizioni che abbiamo intenzione di esporre e quindi faccio partire a Gabriella io volevo io sono il primo a esporre la mia composizione in stile che è chiamata Fantasia perché è il metto sole modulatore dell'anello ho scelto il nome Fantasia per via della sua forma visto che riprendendo la forma di mantra di Stockhausen questo brano è diviso in cinque sezioni dove ogni sezione presenta il suo tema il suo tra virgolette tema indipendente e riconoscibile ogni di queste sezioni è basata su un carattere che è esposto all'interno del mantra iniziale e questi caratteri ho scelto di volerli rendere bene evidenti attraverso l'uso di pause tra un e l'altro adesso vi farò sentire un estratto un estratto del mantra grazie a tutti come avrete sentito il suono effettivo del carinetto che tutti sempre dovete sentire compare pochissime volte all'interno di queste di queste brevissime otto battute per via appunto del trattamento delle modulature d'anello le caratteristiche che ho riuscito di usare sono la prima è diciamo tipica alle carinette infatti ho scelto di usare delle note legati uniti a note lunghe caratterizzate da grandi contrasti dinamici mentre invece il secondo carattere che ho scelto di usare è composto da delle acciaccature che sono delle note veloci unite a una nota sforzata il terzo carattere invece non è molto perennettistico però è il tremolo che consiste in una ripetizione continua e veloce di due note distanti il quarto carattere invece il quarto carattere invece è composto da delle note staccate e da degli sforzati mentre invece l'ultimo carattere è composto da un trillo che è anche questa una ripetizione di due note ma questa volta sono vicine diciamo così una cosa che ho deciso di aggiungere che non è compresa nel mantra di sto causa è una piccola transizione tra la quarta e la quinta sezione per poter collegare al meglio i caratteri adesso io farò sentire i piccoli incipiti da ogni sezione questa è la prima che appunto ha il carattere espressivo che inizia con lo stesso elemento dell'inizio del mantra penso si sia sentito la differenza del trattamento tra il suono del premio originale e quello come il due anello la seconda sezione invece è quella del carattere più ritmico questa è la terza sezione in questa sezione ho cercato di collegare al meglio gli armonici acuti del modulatore dell'anello con quelli gravi del suono del carinetto originale la quarta sezione invece è questa la transizione è basata su un procedimento di aumentazione dove i valori originali vengono aumentati di valore per sembrare più lunghi e di Questi ultimi secondi erano all'inizio della quarta sezione e il brano finisce con un diminuendo verso il nulla. Ok, penso di poter procedere invece con la mia composizione. Anche nel mio caso si tratta di una composizione ispirata appunto alla tradizione Caution e di conseguenza la forma è simile sia al mantra originale che a quello proposto a Sostini. Il mio brano però lo considero più uno studio in quanto la mia intenzione era appunto la ricerca delle potenzialità che potevo tirare fuori appunto da uno strumento come il mio che è il fagotto con appunto l'utilizzo di modulatore d'anello. Per fare ciò infatti ho cercato di spingermi un po' oltre i miei limiti utilizzando anche suoni inarmonici ovvero suoni che non sono note vere e proprie ma sono dei suoni particolari prodotti con posizioni non convenzionali. E anche con l'utilizzo di glissandi ovvero di variazioni di intonazione che normalmente nella modica dal repertorio tradizionale sono previsti almeno fino al novecento. Il mio brano dunque presenta il tema iniziale che presenta sette caratteri. Ho deciso inoltre in questo brano di dare molta importanza alla struttura, alla forma che quindi appare particolarmente rigida e di conseguenza sono presenti queste sette sezioni che sono tutte molto molto simili tra di loro. presentano tutte la stessa lunghezza e presentano tutte due sottosezioni divise tra di loro. Infatti, ognuno di queste sezioni presenta in modo evidenziato il carattere che appunto determina la sezione. Quindi uno dei sette caratteri determina, ognuno dei sette caratteri determina ognuna delle sette sezioni. Però, nella mia composizione, la prima metà delle sezioni sono influenzate, se così vogliamo dire, dalla sezione precedente. e di conseguenza presenta una commissione tra i due caratteri. E la seconda metà, invece, è influenzata dalla sezione successiva. Dunque, direi di procedere anch'io a fare degli ascolti. Intanto che Davide prepara gli ascolti, così a beneficio del pubblico, raccontiamo anche che nel suo percorso Davide è partito in prima con il suo primo strumento, il pianoforte, di cui tra l'altro è un eccellente esecutore. E poi, nel corso degli studi, sono tutti studenti di quinta, d'eccezione di Siana, che poi speriamo interverrà, si è innamorato del fagotto, possiamo così dire. Quindi, questo strumento che, comunque, ha cominciato a conoscere dalla classe prima, che non apparteneva al suo bagaglio, credo, di particolari inclinazioni musicali. Anzi, forse è stato vissuto all'inizio come una sorta di, così, non dico di punizione, ma come dire una cosa piuttosto non scelta. Ecco, diciamo così. E quindi, poi, tra le tante, invece, i tanti interessi è diventato ora il suo primo strumento, in cui è altrettanto eccellente. Lo dico io, perché mi posso permettermi di dirlo. E qui mettiamo anche in campo gli altri interessi, quindi i compositivi, i tecnologici, e quindi siamo davvero quella sintesi che si auspica ai termini dei percorsi, di questo percorso, perché poi ne stanno iniziando uno sicuramente più, altrettanto impegnativo, ma ovviamente a più alto profilo. E quindi questo, per capire davvero che si è operata una sintesi estrema e anche una commistione, così come dovrebbe essere, tra tutti i saperi, che poi non sono solo musicali, ma ovviamente afferiscono anche a tutte le aree dei saperi della licealità, nessuno escluso, perché è chiaro che abbiamo poi tutte le altre competenze che vengono messe in atto. Bene, scusa l'interruzione, Davide, ma così può essere interessante capire anche come si approda a determinate scelte. No, anzi, ringrazio la professora Franceschini. Ok, inizierei quindi con lo sconto del tema principale della mia composizione. No, anzi, ringrazio la professora Franceschini. Il tema che presentava i sette appunto comportamenti, il primo che era costituito da un trillo seguito da un'altra puntata, il secondo che era costituito da sette note in accelerando, il terzo che era costituito appunto dal glissando, il quarto dal trentaduesimo puntato, il quinto dal suono inarmonico appunto che si poteva notare risaltava per complessità, il terzo da un andamento ritmico che invece è ritardando, quindi con valori sempre più lunghi, e l'ultimo invece che è caratterizzato da note puntate e salti molto ampi. Per mettere in evidenza ciò che dicevo prima rispetto alla struttura della mia composizione, faccio sentire un breve passaggio che è tra la fine della seconda metà della prima sezione e la prima metà della terza sezione. In questo passaggio si può notare come prima venga utilizzato in modo quasi dominante rispetto all'altro carattere il primo comportamento, quindi il trillo e la nota staccata, mentre nella seconda parte si potrà notare l'utilizzo maggiore della settimana in accelerando. Ah, scusate, ho spiegato. No, 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 no. No, 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 no. Volevo anche mettere in evidenza come per l'utilizzo della modulatura d'anello, mi sono, anche in questo caso, ho voluto dare una rigida struttura dalla quale sono però talvolta uscito per scelte musicali. Praticamente, ad esempio, quando vi era una dinamica del piano, l'utilizzo della modulatura d'anello, quindi la variazione del timbro, spesso non era così efficace come poteva invece risultare in momenti invece dinamici più intensi. con questo penso di aver concluso, quindi se vuole parlare Zanotti della sua composizione. Buonasera, io ho composto, anche io, uno studio per pianoforte e modulatore d'anello e poi un altro pezzo più tradizionale, diciamo, la toccatina opera 11. Inizierei con il pezzo per pianoforte e modulatore d'anello. Ok, allora, è un brano che è diviso in due sezioni. La prima sezione consiste nell'esposizione dei 13 comportamenti che caratterizzano il brano e mentre la seconda, invece, consiste nello sviluppo di tali comportamenti. Appunto, questi comportamenti, questi incisi, sono caratterizzati da varie tecniche, per esempio il legato, come si può vedere nel primo, oppure l'accento, come per esempio le dinamiche, ad esempio il secondo comportamento costituito. da un accordo accentato forte, seguito subito dallo stesso, però pianissimo e più lungo. Quindi, comunque, ecco, questi comportamenti sono costituiti da note legate, oppure, per esempio, note ribattute, anche che conferiscono il carattere percussivo che ho voluto dare a questo brano, oppure anche da trilli, come si può vedere qui. E anche, magari, da figure ritmiche un po' più articolate, come per esempio il ritmo puntato, oppure la sincope. Ecco la sincope. Lo sviluppo, invece, appunto, sviluppa questi comportamenti con tecniche più tecniche, appunto, per esempio la diminuzione e l'inversione dell'inciso iniziale. Vorrei anche far notare il tempo che cambia a seconda dell'inciso e non è un tempo regolare, come può essere un quattro quarti o un due quarti, per esempio, all'inizio. Nella prima battuta ci sono dodici quarti, semplicemente perché sono compresi i primi due comportamenti, poi la seconda è di dieci quarti. Questo per dare al brano la sua instabilità che era voluta. Invece il modulatore ad anello è stato utilizzato nelle note più lunghe, perché altrimenti, secondo me, il brano sarebbe risultato troppo statico, quindi comunque, essendo anche di carattere abbastanza percussivo, ho voluto provare ad utilizzarlo in queste note e accordi più lunghi. e adesso procederei con l'ascolto integrale del brano che tanto dura un minuto e trenta. E adesso procederei con l'ascolto integrale del brano che anche doveva essere pubblicato. Grazie a tutti. 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 Mamma mia, io non ho parole, Claudia. Ma no, non servono le parole. Mi sembra che abbiano dato un'idea, anche se ovviamente giustamente si sono soffermati anche in particolari tecnici. erano molto preoccupati di quanto semplificare, ma mi prendo la responsabilità anche di aver detto loro che per quanto dovesse essere più possibile comprensibile, anche rispetto magari a un pubblico non ovviamente necessariamente esperto di musica, ma per mettere davvero invece in evidenza che determinate competenze specifiche e tecniche anche in un linguaggio universale come quello della musica, torniamo al discorso che stavamo facendo prima, universale sì, però che per essere ovviamente agito da chi lo pensa, lo rende fruibile, lo condivide, deve essere conosciuto. Ecco, anche quest'ultima citazione che ha fatto di questo software è molto utilizzato enormemente anche per le esercitazioni di classe che è Musescore, che è un po' la versione diciamo free di Finale o anche di altri programmi come Sibelius, sono programmi per la notazione che si usano normalmente e quindi che aiutano a scrivere, non sempre, a volte anche scrivere insomma con carta e penna diciamocelo pure, alla sua utilità è anche più veloce. Aiutano quindi, però non sostituiscono quella che è la competenza tecnica e poi la parte di creatività musicale, di sensibilità. Mi piace dire che in questi tre pezzi dei tre ragazzi davvero rispecchiano molto quello che loro sono anche come personalità. La parte migliore insomma, l'altra più oscura la lasciamo per le prossime evoluzioni. Ecco, questa era la parte dedicata alla composizione con le nuove tecnologie, quindi una parte, un piccolo assaggio per capire almeno un po' dal di fuori cosa succede in questo luogo oscuro e misterioso che è il liceo musicale. Lo dico un po' così, nel senso che davvero se ne ha una percezione a volte magari poco chiara, si sa che si suona, ma insomma si suona anche, si fanno anche molte altre cose, anche non solo musicali. Adesso a questo punto ci dovrebbe essere, abbiamo lasciato il question time alla fine, però nulla vieta ovviamente che si possa intervenire, si possono fare osservazioni e soprattutto anche a loro. E poi ci sarebbe invece la parte dedicata alla seconda parte che è quella a cura di Siana e Davide che se non dovessero essere subito pronte per collegarsi hanno comunque realizzato come best practice, nelle best practice, un video di altissima qualità. Quando stamattina il laboratorio di tecnologie, in compresenza avanti e indietro dal cortile, nelle ore di TAC in presenza con me a distanza, col professor Di Filippo e quindi anche questo è interessante vedere la velocità di realizzazione, cioè la flessibilità nell'adattare con le tecnologie e risolvere, ecco il problem solving dei compiti di realtà. Qui siamo già oltre, quindi... Durante l'anno scolastico 2019-2020 abbiamo realizzato un'installazione sonora interattiva che abbiamo deciso di chiamare persone, come la maschera che veniva utilizzata dagli attori durante la tragedia greca per amplificare la loro voce. Un'installazione è un'opera costituita da vari elementi o oggetti disposti in uno spazio. La nostra installazione consiste in uno spazio vuoto, delimitato, circondato agli angoli da quattro altoparlanti. Ad ogni persona che entra nello spazio viene assegnata una voce, spiegherò poi meglio questa cosa. La voce quindi si sposta, lo spettatore sente la voce spostarsi attraverso i quattro altoparlanti, seguendo il suo spostamento nello spazio. Per realizzare questa installazione, i primi mesi di laboratorio degli esperti ci hanno spiegato le basi della programmazione musicale e ci hanno mostrato diversi tipi di installazioni, per avere un po' un'idea di che cosa fossero e che cosa potevamo puntare a realizzare. In seguito abbiamo deciso che forma dare alla nostra installazione, che è quindi quello che vi ho spiegato prima, e abbiamo deciso che sarebbe stato uno spazio definito nel quale le persone, entrando e muovendosi in esso, avrebbero prodotto modifiche alla componente sonora. Dato che eravamo tutti studenti e studentesse del corso musicale, abbiamo deciso che la componente sonora avrebbe occupato uno spazio centrale. Abbiamo poi iniziato a pensare a cosa volevamo comunicare con la nostra installazione e che elemento sonoro volevamo mettere in evidenza. Quindi si è deciso che persone avrebbe parlato di multiculturalità, ponendo al centro dell'attenzione le diversità timbriche presenti in diverse lingue. Abbiamo quindi poi proceduto per step e abbiamo campionato, quindi registrato, le voci di studenti e studentesse bilingue della nostra scuola, che hanno deciso di recitare uno scioglilingua in lingue appunto diverse. Quindi abbiamo avuto l'arabo, il moldavo, il russo, il tedesco, l'italiano, il francese e lo spagnolo. Abbiamo tratto da esse, modificandole quindi gli aspetti fonetici più musicali, ottenendo quindi due versioni di ogni lingua. Una versione originale, non modificata, e una versione modificata, quindi più musicale. Abbiamo poi, grazie all'aiuto di esperti, programmato il software che ci permette di tracciare il movimento delle persone presenti all'interno dello spazio. Il risultato finale, quindi persone, è appunto uno spazio sonoro interattivo. Quindi ad ogni persona che entra nell'installazione viene assegnata una voce in lingua diversa, che è possibile sentire appunto attraverso i quattro altoparlanti posizionati agli angoli dello spazio. Quando più persone si muovono all'interno dell'installazione, le voci entrano in relazione e creano un tappeto sonoro che si modifica, quindi è in costante movimento, in base alla distanza che è presente tra le persone che ci sono nello spazio. Se le persone sono distanti, per esempio se ci sono due persone agli estremi dell'installazione, allora si sentiranno due voci nella loro versione originale, quindi per esempio come sto parlando io adesso. Mentre invece se due persone sono vicine al centro dell'installazione, allora queste due voci subiranno modifiche e si inizieranno a sentire delle componenti più ritmiche o comunque più interessanti dal punto di vista timbrico, così da appunto creare questo tappeto sonoro e questa interazione tra appunto le due lingue. Questo ci permette anche di alludere a una certa vicinanza tra le culture, quindi appunto questa armonia musicale si forma quando le persone si avvicinano e non quando le persone sono distanti. E' un ragno quello. E' un ragno quello. E' un ragno quello. Sì, sì. Sì, sì. E' così. Così va bene. Ehm... Non riesci un po' di più verso di là. Esatto. E' così. Così va bene. E' così. C'era un progetto. C'era un progetto. Questo progetto è fatto dagli studenti del Liceo Musicale di Brescia, Veronica Gambara. Ed è stato, diciamo, creato con l'intento di cercare di far avvicinare gli studenti al rapporto che c'è tra la tecnologia e la cittadinanza. Quindi i rapporti con con l'ambito sociale, l'ambito culturale e artistico. ... 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 edarretti daòia, addettini fidi dhari edarretti addettini fidi dhari fidi dhari dhari Sì, 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 sì. La programmazione d'oggetti è uno dei paradigmi fondamentali della programmazione, ovvero uno dei vari modi con cui noi possiamo programmare un software all'interno di un computer. Cosa si intende con la programmazione degli oggetti? Si intende un approccio diverso rispetto ad altri tipi di programmazione che identifica attraverso oggetti grafici oppure stringhe di codice degli oggetti che vengono richiamati e utilizzati per scrivere questo software. Cos'è un oggetto? Un oggetto è una parte di memoria collocata all'interno della macchina che viene richiamata durante la scrittura del codice. Questi oggetti sono organizzati in diverse classi a seconda del loro scopo, della loro funzione e delle loro caratteristiche di conseguenza. Per spiegare meglio questo concetto possiamo riferirci al mondo animale. Per esempio, un gatto e un cane sono entrambi mammiferi, quindi appartenenti alla stessa classe, però hanno evidenti caratteristiche somatiche diverse. Quindi entrambi appartengono alla classe dei mammiferi, degli vertebrati e appartenenti al mondo degli animali, però hanno caratteristiche specifiche differenti. La stessa cosa la riscontriamo nell'organizzazione degli oggetti all'interno di un software a programmazione di oggetti. Si possono identificare tre vantaggi fondamentali nell'utilizzo di questo tipo di programmazione ad oggetti. Il fatto che innanzitutto si ha un approccio molto più naturale e intuitivo a quello che è il processo di programmazione, partendo dal fatto che identifichiamo parti del nostro software che stiamo scrivendo come oggetti, tra virgolette, fisici, con i quali appunto costruiamo il nostro software o algoritmo. Un altro vantaggio è chiaramente quello di avere un approccio modulare, quindi la possibilità di richiamare e incastrare infiniti oggetti in infiniti modi, quindi ottenendo anche risultati più o meno diversi a seconda anche di quelli che sono i nostri scopi. Infine, una cosa molto importante, ovvero un approccio molto più efficace a quello che è il cosiddetto problem solving, quindi alla risoluzione del problema durante la fase di scrittura del codice. Identifichiamo subito qual è il problema andando a ripercorrere quello che è il flusso di dati e di conseguenza lo andiamo a risolvere. Ci sono alcuni software di programmazione di oggetti che vengono utilizzati in modo particolare in ambito musicale e interattivo. Quello che noi vedremo oggi sarà Max, molto simile è PD, oppure Super Collider, diciamo una cosa un pochettino diversa perché non identifica proprio degli oggetti grafici sull'interfaccia del computer, ma sono appunto delle stringhe di codice che si riferiscono ad oggetti, quindi un pochettino più complesso. Sorge quindi una domanda spontanea, ovvero perché andare a utilizzare questi tipi di software di programmazione di oggetti in ambito musicale, se noi possiamo utilizzare tranquillamente software che si trovano di pubblico dominio oppure con licenze che si trovano in commercio per fare musica oppure per qualsiasi tipo scopo artistico e musicale. Beh, i motivi principali possono essere due, ovvero acquisiamo una consapevolezza dell'utilizzo e del funzionamento del software e di conseguenza uno sviluppo del pensiero computazionale, quindi andare a creare partendo da zero strumenti oppure particolari tipi di processi di segnale. La seconda è chiaramente uscire dagli schemi di quello che ci permettono e ci garantiscono software di uso comune, tradizionale, andando a creare dei software, degli strumenti personali di invenzione propria, innovativi, con una propria estetica e una espressività particolare che noi ricerchiamo. Quello che vi presento oggi, diciamo, è un esempio dei vari e possibili scopi che si possono ottenere con Max, appunto, che è il software che prenderemo in considerazione. Quello che vedete è praticamente una batteria elettronica che, diciamo, è stato parecchio uno strumento musicale inventato negli anni Ottanta che, appunto, con lo scopo di ricreare una batteria di stampo elettronico, quindi di sintesi dal vivo del segnale audio. Non sono dei campioni che vengono riprodotti, ma, appunto, è tutto fatto, sintetizzato al momento il suono, con la possibilità di modificarne il timbro e frequenze a seconda, appunto, cambiare i suoni. Abbiamo sei strumenti, quindi abbiamo due piatti, una gran cassa, un clap, una campana e un tamburo, un tamburo militare, uno snare cosiddetto. Il tutto viene gestito, appunto, da un sequencer lineare e un sequencer euclideo, che sfrutta, diciamo, delle geometrie particolari, che dopo spiegherò meglio. Quello che ho voluto, diciamo, modificare, partendo da questo concetto, da questo tipo di strumento, è stato il fatto di renderlo, diciamo, modale, quindi con la sintesi per modelli fisici. Cosa vuol dire? Sostanzialmente, ho preso, ho studiato, diciamo, la risonanza di alcuni oggetti, con diversi materiali, con un software esterno. Questa cosa non si fa con Max, ma deve essere caricata precedentemente. Quindi mi sono fatto dei modelli fisici, come potete vedere, c'è il tubolare, oppure una serpentina, un cubo, una ciotola. Per ogni singolo di queste forme, di questi oggetti, ho fatto uno studio delle frequenze mondali, cosa significa uno studio delle frequenze di risonanza di questo oggetto, quindi che ci permettono di capire effettivamente come suona questo tipo di oggetto, con diversi materiali, dall'acciaio all'argento, granito, palladio, uranio, rame, vetro, zinco, zaffiro. Una volta fatto uno studio di questi oggetti, di come suonano, ho importato in Max il file delle frequenze con i loro fattori di partecipazione della massa e attraverso quelli sono riuscito a ricreare un suono ideale, diciamo, di questo tipo di oggetti. Chiaramente il suono viene stimolato, però, non da fonti esterne, ma dalla batteria stessa. Quindi, per ogni singolo strumento, noi possiamo selezionare un tipo di risuonatore, oggetto in cui far risuonare lo strumento stesso. Quindi, per esempio, la gran cassa, si può scegliere di farla risuonare all'interno di una piramide esagonale, fatta di piombo. Di conseguenza, noi avremmo quel tipo di risultato timbrico. Quindi, una volta stabilito il metodo di sintesi e di risonanza dei vari strumenti, passiamo alla parte, diciamo, di sequenzer, ovvero la parte che fa suonare, in modo automatico, i vari strumenti. Abbiamo due possibilità. Una è che è un sequenzer lineare. Abbiamo due possibilità. Una è un sequenzer lineare, formato da 16 step, ovvero, cosa vuol dire? Abbiamo 16 step che vengono letti ad intervalli regolari, in base a quelli che sono le indicazioni di metronomo di base. Se la lettura di questi step, all'interno della lettura di questi step, il lettore vede che c'è degli spazi pieni, degli spazi vuoti, che sono proprio graficamente, sono da mettere in questo modo, Allora, lì, in quel punto, chiaramente, verrà innescato il suono e si sentirà, appunto, lo strumento suonare. Questo tipo di sequenzer, diciamo, è chiaramente quello che era originariamente appartenente allo strumento della batteria elettronica. È molto lineare, diciamo, molto semplice e permette, diciamo, più ritmi lineari e non poliritmie complesse. Le poliritmie complesse, invece, le possiamo ottenere grazie ad un diverso sistema, ovvero quello del sequenzer euclideo, che vediamo qui in alto. Cosa è un sequenzer euclideo? Questo, sostanzialmente, si basa sulle geometrie euclidee semplici, quindi quadrati, triangoli, pentagoni, esagoni e via dicendo. Come le sfrutta questo tipo di sequenzer? Immaginiamoci, appunto, anche qui a grafica si vede un cerchio, dove noi possiamo cambiare, chiaramente, la quantità di punti in cui suddividiamo questa circonferenza. All'interno di questa circonferenza andiamo a collocare, in modo simmetrico, dei punti che corrispondono, appunto, a ogni quanto e dove far suonare la batteria. Quindi, in un caso, appunto, di un quadrato, andiamo a settare, per esempio, 8 e andiamo a mettere, in modo, diciamo, simmetrico i vari punti. Ed è chiaro il risultato sonoro, che sarà una suddivisione in 4 della battuta. La cosa interessante è che si può sovrapporre molto facilmente poliritmie diverse, metriche diverse. Per esempio, se abbiamo un piatto che lavora, appunto, con 8 suddivisioni, con ogni 4, la scansione del suono, possiamo mettere l'altro piatto, magari, con una suddivisione in 15, con 5 colpi ogni 3. E, di conseguenza, viene fuori un po' il risultato del 5 quarti contro il 4 quarti. Quindi, si ottengono molto facilmente delle poliritmie interessanti, diciamo. Il tutto viene gestito da un mixer sottostante, che permette, diciamo, la gestione, diciamo, dei volumi dei vari strumenti. C'è una piccola matrice che permette, praticamente, una superficie di controllo, che permette di andare ad aggiungere effetti e a implementarli in tempo reale. Ancora un grazie, un abbraccio a tutti voi e, in particolare, ai nostri studenti, ai loro insegnanti. Un abbraccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata e alla prossima. Grazie. Grazie mille. Ciao, ragazzi. Ciao. Buona serata. Buona serata. Buona serata.